Tiziano Bondioni della Niardo 4 Bike, una nuova avventura quest'anno, una gara per giovanissimi, sempre ovviamente off-road, 142 atleti per il primo anno è un bel successo. Esattamente, come hai detto te, 142 partenti qui al Via nelle varie categorie tra giovanissimi e promozionali e non tesserati, abbiamo iniziato questa nuova avventura in ambito giovanile per uno sport in crescita come la mountain bike, specialmente nel nostro territorio dove le gare di mountain bike e i partecipanti si stanno evolvendo di anno in anno, ci è fatto molto piacere riuscire a organizzare questa gara con i bambini e a portare qui tutti questi piccoli biker, sperando che crescano e si appassionino sempre di più. Spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. In paio è un trofeo particolare. Esattamente, abbiamo voluto ricordare Davide e Andrea a cui molti di noi siano stati molto vicini, in particolare oggi c'è qui il nonno che premierà questi piccoli biker e niente, ci ha fatto piacere unire questa gara giovanile a un ricordo di due bambini che non ci sono più. Per ultimo ringraziamento agli sponsor che vi stanno vicino. Esatto, ringrazio tutti gli sponsor che ci hanno aiutato, non posso elencarli perché sono troppi, in particolare MobiMotor che è stato il mio sponsor della manifestazione, più tutti gli altri che sono tanti e sono molto appassionati che ci hanno dato una mano. tutti i miei collaboratori e i gruppi della protezione civile e della cooperativa Castello che ci hanno aiutato qui al centro sportivo e tutto il paese che ci ha dato una mano.